Oggi vi parlo di Campo al Faro, un rosalto della costa toscana 2021. 2021 è nata piacevole, immediato, dove esalta il frutto questa parte floreale. Bellissima densità di bicchiere, un colore rosa carico luminoso. Al naso queste sfumature di cocomero, meno grano, questa sfumatura un po' iodata e selvatica. Al gusto è denso, piacevole, acido saline di grande profondità e di bellissima beva, da bene fresco, un vino per l'estate. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.